Il tuo consulente Agrometro ti dà il benvenuto su Agronotizia. Il tempo previsto nei prossimi 10 giorni con tendenza fino a 15 giorni, quindi all'incirca fino al 22 di dicembre. Fase invernale nei prossimi 10-15 giorni, con piogge ovunque, nevicate fino a bassa quota al nord, freddo al centro nord. Tre fasi, prima fase 8-11 dicembre, piogge da prima al centro nord e poi dal 10-11 anche al sud. Nevicate al nord fino a quote molto basse, freddo al centro nord. Seconda fase, 12-13 dicembre, assenza di piogge, freddo al centro nord, gelate al nord. Terza fase, 14-22 dicembre, tornano le piogge da prima fino al 16 dicembre ovunque, poi dal 17 dicembre al 22 dicembre solo sulle regioni tirreniche e sul Trivenito. Nevicate ci saranno ovviamente sulle Alpi a quote intorno medio basse, tra il 17 e il 22, freddo al nord. Allora, per quanto riguarda le piogge, abbiamo detto che ci saranno piogge quasi tutti i giorni, specialmente in questa prima fase fino al 13-14 dicembre. In particolare 8 dicembre, immacolata, piogge da prima solo al centro campagna, poi dalla sera piogge su tutto il centro nord. Venerdì 9, piogge al centro nord, campagna, Sardegna. Sabato 10, piogge su tutta l'Italia. Domenica 11, piogge ovunque. Le nevicate, nevicate sulle Alpi il 9 dicembre fino a quote 1200 metri. Le nevicate sempre il 9 su Cuneese, Alessandrino, Astigiano. 10 dicembre nevicate sulle Alpi, centro orientale a quote intorno a 600-800 metri. 11 dicembre nevicate su Alpi centro orientale fino a Fondovalle, zone pedemontane dell'Emilia e del Veneto. Nevicate fino a quote molto basse, diciamo quasi, fino alle zone pedemontane su Romagna, Marca, Abruzzo e Molise. Per quanto riguarda le gelate, invece, gelate sulla regione di nord-ovest, è l'8, 10, 11, 15, 16 e 17, nevicate su tutto il nord il 14 dicembre e poi dal 16 al 22 dicembre. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in genere inferiori a 5-6 gradi al nord, al centro temperature massime tra 5 e 10 gradi, tranne il 15 e 16 di dicembre quando risaliranno, al sud temperature massime intorno ai 10-15 gradi.